Il defibrillatore è un apparecchio utilizzato in caso di arresto cardiaco o gravi aritmie che mettono a rischio la vita. È un apparecchio che può, se usato tempestivamente, salvare una vita umana e spesso lo si trova all'interno di ambulanze automedicalizzate. Natale Baruzzi, imprenditore cesenate, va in pensione e quindi ha deciso di donare un defibrillatore al club hobby terza età, dove è stato realizzato anche un corso che spiega ai membri del club come deve essere usato l'apparecchio. Vediamo come è nata questa idea dalla nostra intervista. È nata, appunto, primo che sono uno dei soci, il fondatore dei soci di questo circolo e andando in pensione come persona fisica della mia azienda, i figli, ho visto che do forse fastidio ai figli stando lì dentro, vogliono cominciare a fare da sole. Ora mi sono detto di abbandonare un pochino e prima di abbandonare loro mi vogliono fare un regalo, penso. E su questo qui, siccome gestisco la Baruzzi SNC e la Residence Ronea, ora cosa fanno? Di quel regalo ho detto io, vabbè, fatemi dare qualcosa dalla Baruzzi e dalla Residence, così compriamo un defibrillatore e lo regaliamo all'Obby 3. pensando, augurandomi, diciamo, che non venga mai usato perché il defibrillatore salva vita, sì, ma non so che si salva sempre. Però questo lo faccio per il buon senso, diciamo, di fare un regalo a chi può. Come ripeto, speriamo che non venga mai usato. Grazie. Grazie.